Quella di Fabio Motta è una realtà che nasce nel 2009, dopo 5 anni di lavoro in cantina al fianco di un suocero di eccellenza come Michele Satta, famoso produttore del Bolgerese. La base di partenza era di ottimo profilo, un appezzamento di 4 ettari ai piedi della collina di Castagneto Carducci, un vigneto che contava 20 anni di età al quale se ne aggiunse poco dopo un altro di 2 ettari in località Le Fornacelle, dedicato ai vitigni a Bacca Bianca. Il 2012 si rivelerà un anno fondamentale per Fabio Motta. L'acquisizione del vigneto Legonnare, caratterizzato da un terreno ricco di scheletro ed argilla, segnerà la nascita dell'omonimo Bolgeri Superiore, il vino che renderà onore all'impegno e dal talento del giovane vignaiolo, grazie ai riconoscimenti come i 94 punti di Wine Spectator all'annata 2015, i 96 punti di Robert Parker all'annata 2013 e di tre bicchieri Gambero Rosso ad entrambe le annate. Ho iniziato a parlare di vini democratici da più di 5 anni a questa parte. Sono vini in grado di esprimere chiaramente le caratteristiche di un terroir, mantenendo un carattere sufficientemente piacevole ed un prezzo adeguato al mercato, lontano da qualsiasi speculazione. Pievei rientra senza dubbio in questa categoria, un Bolgeri dal colore accattivante, dai profumi fini e ben amalgamati, dal palato strutturato in cui le croccanti durezze tipiche di un giovane rosso trovano equilibrio grazie a morbidezze ben dosate. Un vino snello e di carattere, eccellente ambasciatore della sua denominazione. Dopo averlo degustato anche nei giorni successivi l'apertura, sono sempre più curioso di provare le altre creature di Fabio Motta, un abile vignaiolo in un territorio dalle grandi potenzialità.